Ben ritrovati appassionati di volley, siamo con il direttore sportivo della Corigliano Volley, Pino De Patto. Allora vogliamo subito trascere un bilancio di quella che è stata una stagione che comunque è stata divertente, ci sono stati tanti eventi, tanti ragazzi in vetrina e soprattutto tanti giovani che si sono divertiti nelle scuole e nelle strutture che usate d'abitudine. Allora, una bella stagione dicevamo, anche se comunque purtroppo è da un po' di tempo che c'è sempre qualche polemica intorno allo sport a Coriglia. Beh, se dobbiamo tracciare un vero bilancio della stagione io direi che è stato l'anno più difficile, più brutto che io ricordi, sotto ovviamente l'aspetto non prettamente sportivo. Non dimentichiamo che è stato l'anno dei migranti, se vogliamo dei profughi minori non accompagnati, dell'occupazione del palasport utilizzato dal 29 di maggio fino a settembre appunto da questi poveri minori che scappavano da guerre, scappavano da situazioni difficili, dall'occupazione abusiva poi di un'altra società sportiva, dai danni provocati, dalla mancata iscrizione ai campionati nazionali. Insomma, si può dire che è stato un anno difficile. Siamo riusciti a restare in piedi, nonostante veramente un attacco devastante da parte di, insomma, tutte quelle componenti che hanno fatto in modo che non si potesse continuare a lavorare nello sport e nel sociale come ovviamente eravamo abituati. Ci siamo scrollati un po' di polvere da dosso, dai vestiti, dai capelli, se vogliamo. Siamo ripartiti con i progetti scolastici, con i settori giovenili e tutto sommato sotto l'aspetto, diciamo, sportivo non possiamo dire che le cose non siano andate bene, ma le ferite sono ancora troppo profonde, ci vorrà molto tempo affinché si possano rimarginare, anzi, diciamo che un'altra profonda c'è stata inferta il 29 di giugno quando ci hanno comunicato che la struttura veniva di nuovo occupata su ordini superiori da 156 minori non accompagnati. E credo che questa sia la chiusura di una stagione veramente, come non riesco a trovare nemmeno, diciamo una stagione maledetta che volgeva verso il meglio, verso qualcosa di più gratificante, ma invece maledetta era, maledetta è rimasta, pazienza. Sono scelte che sicuramente dipendono da una mancata programmazione, da parte di chi ovviamente ci amministra, da parte di chi deve scegliere per i propri cittadini, hanno scelto ovviamente di non agevolare e soprattutto far sì che i diritti dei cittadini in qualche modo potessero essere presi in considerazione e garantiti e pertanto ancora una volta ne prendiamo atto. Parliamo di quest'anno difficile, però più scuro della mezzanotte poi non c'è niente. Siete riusciti a restare in piedi e si sta programmando per quello che potrebbe essere il futuro, anche se poi arrivano queste mazzate. È un territorio, il nostro, impreparato sotto tutti i punti di vista sulla questione dei migranti, quindi poi magari si potrebbe anche approfondire il discorso secondo me in degli incontri che faremo ad hoc sulla tematica. Ma dal punto di vista sportivo eravate rientrati nel palazzetto con entusiasmo, anche perché ci sono tanti giovani che continuano a giocare a pallavolo, continuano ad appassionarsi. Nel recente passato ci sono stati risultati brillantissimi. E Corigliano manca anche al movimento del volley, ne hai testimonianza secondo me quotidianamente. Questo è un discorso che lascia la mano in bocca, però vediamo sempre qualche bagliore. In questo momento io non vedo nessun bagliore, perché la nostra è un'attività che necessariamente deve essere programmata e pianificata. La scelta di non fare i campionati nazionali, almeno quelli importanti, non è dipeso solo dall'occupazione del palazzetto dello sport, che comunque è il volano, l'energia, è quello che ovviamente ti dà stimoli per andare avanti e fare sempre di più, nella speranza di continuare a fare posolettismi, di trovare aziende che ci sponsorizzano. Non dipende solo da quello, come dicevo prima, dipende da tutta una serie di fattori che comunque sono sempre legati all'attività amministrativa di quella classe dirigente che oggi ovviamente è lì, dovrebbe fare gli interessi dei cittadini. L'economia è importantissima, soprattutto per le città sportive che vivono di sponsorizzazione. La nostra è una città in ginocchio, oggi si parla solo di migranti, si parla di fusione, si parla di differenziata, ci buttano tanto fumo negli occhi, ma nella realtà oggi abbiamo una situazione molto grave. Abbiamo tanto atteso questo bando, poi è uscito, poi è riapparso, è scomparso, lei ha fatto in tempo a stamparne copia, allora vogliamo parlare anche di questa vicenda? No, in realtà io non l'ho solo stampata, io l'ho letta bene, benissimo, ho collaborato per quello che ho potuto, ho dato anche dei suggerimenti, devo riconoscere che l'assessore allo sport con i suoi uomini si è data da fare, ha sudato sette camicie affinché venisse pubblicato non nei bandi di gara, ma sulle determine, adesso non c'è più, prima è stato pubblicato, l'abbiamo stampato, abbiamo verificato che c'erano alcune cose da sistemare, grande collaborazione. Però il bando adesso non c'è più, pubblicato. È stato tolto giusto due giorni prima dell'arrivo dei migranti, quindi scusatemi se io poi penso sempre male, ma credo che non ci sia la volontà da parte di nessuno di fare le cose come si deve e soprattutto di collaborare. Si va sempre nella stessa direzione, tutti quanti ogni giorno aspettiamo che domani sia un giorno migliore, perché questo è un modo di vedere le cose per dare la speranza. Ci hanno tolto la speranza, la cosa grave è che la speranza la tolgo dai nostri giovani, che ovviamente si vedono costretti a rivolgersi ai propri genitori chiedendo una mano, chiedendo aiuto. Il genitore oggi, almeno per quello che mi riguarda, la mia è una decisione che è molto importante per il bene dei miei figli. I miei figli non possono vivere in una città come questa perché io voglio che loro non vivano male come stiamo vivendo noi, quelli della mia generazione oggi. Per loro noi, ovviamente, tutti i genitori, tutti i papà e tutte le mamme sognano grandi cose per i loro figli e questa città in questo momento non glieli può garantire. Noi naturalmente raccogliamo questo pensiero con un pizzico di amarezza perché tante volte abbiamo annunciato grandi belle cose dal punto di vista sportivo, abbiamo vissuto momenti indimenticabili in giro per l'Italia. Adesso siamo in questa situazione e c'erano tante avvisaglie e purtroppo sono accadute moltissime cose che noi avevamo messi in preventivo. Ora si spera si possa voltare pagina, purtroppo molte volte le attività dell'amministrazione vengono scandite anche da qualcosa che riguarda non la politica ma aspetti giudiziari. Noi in questo incontro non vogliamo assolutamente approfondire di queste tematiche, ma c'è però da dare un'ultima notizia ai nostri amici che ci seguono. Comunque continueranno i progetti scolastici, continuerà la Corigliano Volley a partecipare anche con belle soddisfazioni, ricordiamo la partecipazione a Bormio di queste squadre, quindi ci sarà la voglia di continuare. La società nella passata stagione mi ha dato mandato ovviamente di svolgere tutta una serie di attività andando a prendere due strutture che sono presenti nella nostra città, due piccoli palazzetti che ci sono costati parecchio, quindi leggere nel bando quello che è l'importo minimo di base d'asta ovviamente ci terrorizza perché anche lì, voglio dire, è una struttura che secondo me non è una struttura che produce. Per tanti motivi, io l'ho relazionato, ho dato questa relazione sia al mio Presidente che alla società e anche all'assessore dello sport, per tutta una serie di motivi, non c'è la strada, non c'è l'agibilità, è una struttura fatta, costruita a suo tempo per determinate discipline sportive, non ci sono sale e riunioni, non ci sono sale e convegni, insomma tutto quello che in qualche modo può creare reddito, in quella struttura non c'è, anche perché adesso la struttura era già in condizioni... Scusa, i migranti creano reddito? Io credo che ne creano tanto, tantissimo, di fatti, ma questa non è solo Corignano, voglio dire, nella nazione Italia un migrante pare che produca 45 euro al giorno, voglio dire, credo, più o meno, adesso io non sono esperto della cosa, né tantomeno lo voglio diventare, né tantomeno voglio fare politica. Il mio punto di vista è quello di un professionista dello sport e di un cittadino, quindi oggi ragiono su quello che è accaduto in quattro anni di amministrazione Geraci e soprattutto dell'ultimo anno che è stato quello che veramente è stato peggio di uno tsunami. Ma io non credo che riguardi solo la palla a volo in particolare, perché poi noi comunque con 1200 studenti gestiti tutti i giorni per tutto l'anno, con due progetti fantastici voluti dai dirigenti scolastici, un under 19 che ha fatto un campionato nazionale, ha fatto le finali nazionali a Bormio. Insomma, un nostro ragazzo che ha partecipato al trofeo delle regioni, un altro trofeo delle province. Sono tante cose che poi ci danno soddisfazione, diciamo che è l'infa vitale, però non basta, non basta perché Corignano ovviamente ha vissuto momenti stellari, ha fatto la storia dello sport a Corignano, è l'unica società sportiva nella nostra città che ha fatto la storia dello sport, non si può parlare di storia delle altre discipline, sì, benvengano tutte per l'amore di Dio. Io adesso sto seguendo con grande passione una società sportiva che fa scherma e un'altra che sta nascendo che fa, adesso non ricordo, si fanno atletica, comunque sempre per giovani e per ragazzi, c'è un rinnovamento perché è ovvio che ci siamo stancati anche di sentir parlare di violenze, sentir parlare di tante brutte cose che nulla hanno a che fare con lo sport, però la domanda che mi pongo è questa, per quale motivo ancora una volta dopo che siamo rientrati nella struttura nel mese di maggio, quando sono andati via gli altri, perché prima non volevamo assolutamente condividere certe situazioni, per quale motivo, abbiamo di nuovo rimesso a posto un po' per quello che ovviamente era possibile fare, perché là sono stati fatti danni per 70-80 mila euro, la caserma dei vigili del fuoco che è nel porto di Corigliano, per quale motivo non può essere utilizzata per ospitare questi poveri ragazzi? Per quale motivo ancora una volta si è fatto la scelta di andare nel palazzetto dello sport? Questa è una domanda a cui qualcuno dovrebbe rispondere, perché in questa maniera si offende, si mortifica e ancora una volta si prende a calci il cittadino, che in fondo non fa nulla di male con i propri soldi e non con quelli del pubblico che non sono sicuramente gestiti da noi, ma da chi ci amministra. Noi ringraziamo Pino De Patto, è stata una discussione ad ampio raggio, però il tema caldo è questo, al momento nel pala sport ci sono questi sfortunati che purtroppo scappano da situazioni incredibili, ma che noi naturalmente facciamo un distinguo, però purtroppo questa gestione, loro non c'entrano, questa gestione mette anche in difficoltà lo sport a Corigliano Calvo. Grazie a Pino De Patto, arrivederci alle prossime puntate. Grazie a voi.